Neoshuras è una piattaforma tecnologica che consente alle compagnie assicurative di distribuire le proprie microassicurazioni, quindi pollizie di breve durate, attraverso gli smartphone e i dispositivi mobile di utenti finali. Neoshuras nasce in Italia, ma ha già una vocazione internazionale grazie a un nostro partner presente in sud-est asiatico, a Kuala Lumpur e a Singapore. Abbiamo raggiunto un accordo importante con una compagnia malese e con una community di runner, di corridori, di amanti della corsa. Grazie a questo accordo all'inizio del prossimo anno saremo in grado di offrire ai runner una copertura assicurativa per la durata della propria manifestazione sportiva, di una mezza maratona o di una maratona, per coprire i rischi e gli incidenti che potrebbero verificarsi durante questa manifestazione sportiva. Modest Corner è una community internazionale di modelle, ci sono più di mille modelle già ad oggi iscritte, che per il lavoro che fanno viaggiano molto e grazie alla nostra copertura assicurativa le modelle potranno assicurarsi per rischi ed incidenti nel momento in cui viaggiano per il loro lavoro per un periodo limitato di tempo, da un giorno a un mese. Questo è il primo esempio di micro assicurazione in modalità push che è nato nel mondo. Altra novità che ci piace annunciare qui al Motor Show è un progetto che stiamo portando avanti in queste settimane con una compagnia assicurativa che è la copertura per il furto collegato al parcheggio della propria auto. Non tutti gli automobilisti hanno una copertura contro il furto, una copertura di lunga durata contro il furto, così come quella per i rischi di responsabilità civile che è obbligatoria e quindi stiamo valutando insieme a questa importante compagnia internazionale quali sono i parametri da valutare per andare a proporre all'automobilista nel momento in cui parcheggia la propria auto una pollizza di breve durata, magari per qualche ora, durante il tempo che l'auto rimane parcheggiata, durante la cena o per qualche impegno, affinché il nostro sistema di artificial intelligence possa proporre all'automobilista una copertura specifica in un momento in cui l'auto è parcheggiata in un'area a rischio o in un'area che non è tipica per l'automobilista e quindi si possa ritenere che probabilisticamente una copertura assicurativa contro il rischio possa essere di interesse in quel momento.